Allora, siamo qui per cura della strada. Cos'è un uso addeciso dall'inizio, appena l'abbiamo conosciuto. Silvana. Seguimvi in questa bellissima inzenda. Allora, oggi abbiamo questo concetto stasera al San Michele. È un bel concetto. Bellissimo concetto che abbiamo con noi anche a Badateli. Emma. Emma, scusami, Emma Inacoli, la dottoressa Natale e il maestro. Che ci puoi spiegare un po' di cose su questo concetto. Il concetto di stasera è perché lì nel pianoforte due grandi artisti. Gianluca, che è un nostro concittadino. Luca Iacono, pianista, è cresciuto alla scuola napoletana che ho conosciuto da vent'anni. Me lo ricordavo giovane adesso. Un uomo. La musica per la solidarietà, la musica per la solidarietà, questa bellissima iniziativa che è veramente straordinaria. Il figuro della strada mette a disposizione medici di grande professionalità perché ho potuto appurare in prima persona veramente di grande spessore e fanno anche tante altre iniziative che poi potrete leggere su posizione di musica. Ora andiamo con il concetto. Andiamo con il concetto. Poi approfondiremo, vedete. Bene, va benissimo. Grazie. Grazie. Grazie.